Ciao a tutti, oggi volevo parlare dell'azienda Creative Deco, in particolare di questo fantastico set di sei colori a dita i colori sono marrone, il blu, il viola, il verde, il rosso e il giallo che combinati insieme possono creare vari colori ecco qui nella scatola c'è la leggenda dove poter realizzare vari colori e il bambino potrà esprimere la propria creatività attraverso questi fantastici barattolini questi sono da 40 ml ma ci sono anche da 125 ml ovviamente sono utilizzabili questi colori ai bambini al di sopra dei 3 anni sempre con la supervisione di un adulto, non tossici, sono a base di acqua e sono acquistabili su Amazon, dovete cercare Creative Deco sono veramente bellissimi, sono convinta che a Michele piacerà tantissimo poter creare vari disegni tra cui le manine, i piedini, dare sfogo alla propria creatività grazie a tutti grazie a tutti